Il centro-sinistra perde questa partita, la perde per una questione nazionale e la perde ovviamente anche per una questione regionale. Il centro-sinistra mantiene in qualche modo la sua forza in Torino e in parte nella provincia, e però siamo minoranza e minoranza a Verbania, Biella, Cuneo, Vercelli, cioè nelle province, nei territori all'esterno della mura deziaria della città di Torino. Io credo che la giunta regionale abbia fatto quello che poteva nella condizione data, abbiamo redditato un debito ingente, i fornitori venivano pagati della sanità durante la giunta a cota a 140 a 14 mesi, oggi si pagano in 30 giorni, la sanità è uscita dal piano di rientro, tutto questo però non impatta con le emozioni e i pensieri dei cittadini. La questione dell'immigrazione e della sicurezza che Salvini gioca in maniera straordinaria, io credo che abbia svolto e svolga ancora un ruolo importante nella nostra regione. Faccio i miei migliori auguri a Cirio, io credo che sarà un buon presidente, un uomo semplice, disponibile, che sa cos'è il rapporto con i cittadini, che ha una bella esperienza politica, è giovane, è l'energia necessaria per fare tutto questo, gli auguro ogni bene.